. Kendall Jenner, in arrivo un reality show sulla modella? Il reality show al passo con i Kardashian star riscuotendo un gran successo e i fan vorrebbero saperne di più sui singoli personaggi. . Uno show tutto su Kendall? Al passo con i Kardashian compie 10 anni e la regina dello show, Kim Kardashian, ha ovviamente pensato a tutto per festeggiare a dovere questa magnifica ricorrenza. . Un modo è stato anche lo spin-off con protagonista Kylie Jenner, Life of Kylie, che ha dato ai telespettatori uno spaccato più intimo sulla vita della socialite e che ha gettato luce su alcuni aspetti del suo quotidiano che tanti non avevano colto o, più semplicemente, avevano frainteso. . C'è una cosa che adesso i fan dei Kardashian vorrebbero sapere, ci saranno altri spin-off sui membri della famiglia oppure quest'iniziativa si è conclusa con Kylie? Ovviamente il nome che più è gridato a gran voce è quello della modella Kendall Jenner, uno dei personaggi pubblici più seguiti negli Stati Uniti, e nel mondo intero. . Vedremo mai la migliore amica di Bella di d'avere un reality tutto suo? A chiarire la faccenda è intercorsa niente meno che la madre, Kris Jenner. . Come i fan dei Kardashian sanno, Kris Jenner è la manager di tutte le sue figlie, e ovviamente anche di Kendall. . La donna accompagna la modella in ogni parte del mondo per seguirla nella sua carriera, e non ha esitato a dissipare i dubbi che riguardano la partecipazione di Kendall come protagonista in un reality show. . Per adesso ci stiamo godendo il successo di Life of Kylie. È qui che ci troviamo in questo momento e vogliamo godercelo per un secondo. Ma è così che funziona. Non possiamo fare uno spin-off in ogni stagione, ma vedremo. . . Ci sarà sempre uno spin-off. Ed è proprio quando le speranze dei fan si accendono che la matriarca sferra il colpo di grazia, no, non ci sarà uno spin-off su Kendall. . Lei è molto soddisfatta del suo ruolo nel reality al passo con i Kardashian. Con la sua carriera da modella è davvero molto impegnata. . Se non sta sfilando in passerella, è a fare qualche servizio fotografico o a viaggiare nel mondo per i suoi obblighi con lindustria fashion. È davvero molto occupata. . Una carriera non priva di intoppi. Negli ultimi mesi Kendall Jenner è stata al centro di una controversia per il suo protagonismo nello spot della Pepsi, per il quale è stata criticata in modo molto aspro. . 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